Una volta predisposti i clienti, gli articoli che si desidera esportare sul sito, associate le immagini, le schede tecniche, e le descrizioni per gli articoli, è necessario effettuare l'esportazione vera e propria, in maniera tale da inviare i dati sul sito. Per fare questo, portarsi nel menu e-commerce, e selezionare la voce Aggiorna sito. Il valore S, presente nella colonna Variato, indica che ci sono state delle variazioni all'anagrafica di uno, o più articoli, all'anagrafica di uno, o più clienti, ad una o più particolarità, e che quindi ci sono nuove informazioni da pubblicare sul sito. La prima volta che vengono inviati dei dati al sito, sincronizza base dati, potrà essere impostato solo sul valore T, ovvero sincronizzazione totale. Le risorse associate all'articolo, come le immagini, la descrizione, e la scheda tecnica, se l'articolo non è mai stato esportato sul sito, vengono pubblicate automaticamente, in alternativa se l'articolo è già presente sul sito, dovrai impostare ad esse, il campo, sincronizza risorse grafiche articolo. Terminata la sincronizzazione, Express provvede ad inviare una mail automatica, con l'esito della procedura, all'indirizzo di posta elettronica, dichiarato all'interno del campo Impostazioni e-mail, presente nella sezione Altre informazioni.